E' come la zappa qui un po' dura, posso farci con la zappa così, guarda, sì, però se faccio con la palla, vediamo se entro la palla, ecco qui vedete, è meglio, con i piedi, con la corsa dei piedi, perché c'è stata la pianta, vedete, ecco qui, ecco qui, ancora, allora, per appuntare giù, se spingo così una volta, e beh, va ciò, c'è, va ti proprio, guarda, phu, to vai.